Buon pomeriggio e benvenuti a Prospettive da parte di Matteo Cioffi. Siamo all'interno della residenza Paolo VI, giornata particolarmente piovosa qui a Città del Vaticano. Ieri all'udienza generale Papa Francesco ha incentrato la sua meditazione sul viaggio apostolico appena concluso in Marocco. Il Pontefice ha ricordato che esistono tante religioni e tutte guardano il cielo, guardano Dio. Il Padre Celeste ha infatti permesso questo e noi non dobbiamo temere le differenze ma lavorare per la fratellanza. Un passaggio della Catechesi del Santo Padre. A me non piace dire migranti, a me piace più dire persone migranti. Sapete perché? Perché migrante è un aggettivo, in cambio persone sono sostantive. Noi siamo caduti nella cultura dell'aggettivo, usiamo tanti aggettivi e dimenticiamo tante volte i sostantivi, cioè la sostanza. L'aggettivo va attaccato a un sostantivo, a una persona, cioè migrante no, una persona migrante. Così c'è rispetto, per non cadere in questa cultura dell'aggettivo che è troppo liquida, troppo gassosa. Poco prima dell'udienza generale il Pontefice ha ricevuto in udienza il coro arcobaleno della Casa di Riposo per Malati di Alzheimer di Boneiden in Belgio, un estratto del discorso del Pontefice. Penso che per voi cantare insieme sia una consolazione, un sostegno, che aiuta ad andare avanti e a sopportare il peso della malattia che certamente si fa sentire. Penso che il vostro canto sia reso più prezioso dalla vostra vulnerabilità. Anzi, penso che il fatto di mettere in comune le vostre fragilità, le nostre fragilità, e accettarle reciprocamente, questo è il canto più bello, l'armonia più gradita a Dio, un arcobaleno non di perfezioni, ma di imperfezioni. Andiamo a Casa Santa Marta ora per la messa di questa mattina, una messa alla quale ha partecipato anche il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Il servizio è da Vatican Media. Pregare con coraggio, faccia a faccia con il Signore, non in modo tiepido, ma mettendocela tutta. Papa Francesco è sorta a rivolgersi così a Dio, alla messa a Casa Santa Marta, alla quale stamani è partecipato in forma privata il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Nell'Omelia il Papa si concentra sulla preghiera, uno dei tre modi assieme a digiuno e carità, con cui durante la Quaresima ci si prepara alla Pasqua. Per far comprendere in cosa consiste la preghiera di intercessione, richiama alcune figure della Bibbia, Mosè, Abramo, Anna, la madre di Samuele, e la Cananea. Ci vuole tanto coraggio per pregare così. E noi siamo tepidi tante volte. Qualcuno ci dice, ma prega per questo problema, per l'altro. Sì, sì. Dico, tu è il Padre nostro, tu è Maria, e mi dimentico. La preghiera del pappagallo non va. La vera preghiera è questa, col Signore. E quando io devo intercedere, devo farlo così, con coraggio. La gente nel parlato comune usa un'espressione che a me dice tanto, quando vuol arrivare a qualcosa. Ce la metto tutta. Nella preghiera di intercessione, questo vale pure. Ce la metto tutta. Il coraggio è di andare avanti. Ma forse può venire il dubbio. Io faccio questo, ma come so che il Signore mi ascolta? Noi abbiamo una sicurezza. Gesù. Lui è il grande intercessore. È tutto anche per oggi, grazie per la vostra cortesa attenzione, buon proseguimento con i nostri programmi ed appuntamento a martedì prossimo.